allora sono qua in solidbox e siccome io ho attivato il fatto che quando io disegno un segmento un come si dice un cerchio così via automaticamente mi crea le quote ok a questo punto volevo farvi notare questa cosa qui che se io vado a fare un quadrato un rettangolo qua lo metto in centro un punto medio schiaccio e qui metto per esempio 50 e faccio invio se lo faccio anche qua 50 guardate cosa succede in automatico capisce che io voglio fare un quadrato a questo punto ha messo in automatico l'uguaglianza perfetto grande solidbox perché io non lo sapevo a questo punto non mettevo la quota e dopo andavo a mettere l'uguale invece così in automatico lui mi riconosce che è uguale perfetto velocizzo di nuovo ok spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima